Mercoledì Adams, nome inglese Wastain Adams, nome completo mercoledì venerdì Adams, è un personaggio immaginario creato nel giugno del 1940 da Charles Adams come parte del gruppo della famiglia Adams, è figlia di Gomez e Morticia Adams. Chi ci avrebbe mai detto che nel 2023, secondo l'Espresso, essa diventasse persona dell'anno? Barone Vassallo, siamo al 22 dicembre 2023, buonasera a tutti. Quindi, a parte gli scherzi, a parte i giochi che molto spesso quasi superano l'immaginazione e la realtà, è passata da qualche giorno una notizia molto pericolosa. Perché è molto pericolosa? Prima andiamo a leggerla. La notizia è questa qui. Secondo la stampa, una risonanza inquina come 500.000 km in auto. Così la salute contribuisce al riscaldamento globale. I risultati del progetto promosso da Slow Medicine, con l'obiettivo di favorire il dialogo dei professionisti, ammazza che botto, con i pazienti e i cittadini su esami, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza. Che l'ambiente di vita e di lavoro sia un determinante nello stato di salute è cosa nota. Ma quanto incidono, al contrario, sull'ambiente le attività relative alla salute? In particolare, qual è l'impatto di esami e terapie sul surriscaldamento terrestre? Se lo sono chiesti diversi ricercatori. I risultati degli studi presentati a un convegno di Choosing Weasley, il progetto promosso da Slow Medicine, con l'obiettivo di favorire il dialogo dei professionisti della salute, con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici. Trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza sono condivisi dal Guido Giustetto, componente della Commissione Salute e Ambiente e del Comitato Centrale della FOMCEO, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Deodontoiatri, in occasione dell'ultimo Consiglio Nazionale. L'ambiente è un problema di salute. Le modificazioni dell'ambiente incidono sulla salute, spiega Giustetto. Ma c'è altro, c'è anche un altro rapporto molto interessante, che non sempre è noto, è il fatto che il sistema salute, il sistema delle organizzazioni sanitarie, contribuisce in una parte che non è proprio piccola, al riscaldamento globale. Alcuni studi calcolano questo valore attorno al 4-4,5%, quindi l'insieme delle nostre attività genera anch'esso un aumento delle temperature. Facciamo degli esempi concreti, continua Giustetto, che è anche presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, per capire di cosa parliamo. Se noi per esempio facciamo un esame del sangue, contribuiamo a produrre dell'anidrite carbonica, della CO2 e quindi ad aumentare il calore. Per dare un'idea, per ogni mille test del sangue noi inquiniamo attraverso la produzione di CO2 come se percorressimo 700 chilometri in automobile. Ma il dato più sconfortante è quello relativo alle TAC, alle risonanze magnetiche. Una risonanza magnetica, che lavori per un anno mediamente, produce la quantità di CO2 corrispondente all'inquinamento prodotto da un'auto che viaggi per 500.000 chilometri. Cosa possiamo allora fare come medici? Si chiede Giustetto nel video. Noi abbiamo due strade. La prima è quella di cercare di rendere consapevoli le persone e anche i nostri colleghi di questo fenomeno. La seconda è muoverci in concreto. Quando decidiamo di prescrivere una risonanza, un esame del sangue, ricordarci che se non è essenziale e non è appropriata, se non è importante, oltre a fare una cosa inutile, quindi sprecare delle risorse, facciamo anche un danno perché aumentiamo il problema delle temperature e quindi la crisi climatica che stiamo vivendo. Queste sono le parole di Guido Giustetto, componente della Commissione Salute Ambiente del Comitato Centrale della FNMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Perché sostengo che questa notizia sia passata pericolosamente sotto banco? Perché mi sembra che sia palese che negli ultimi anni, e lo sappiamo benissimo, lo vediamo benissimo, a causa di un piccolo raffreddore, sono stati messi da parte investimenti e controlli di tantissime altre malattie. E' stato quell'assaggio che ci sta portando quasi ormai a vivere in una preistoria moderna. Una preistoria moderna in cui si cerca di far fare gli esami possibili, si cercano delle cose piccole e si dimenticano delle cose grandi. Si sta addirittura dicendo che la prevenzione e gli esami sono una fonte di inquinamento. Una fonte di inquinamento gravissima perché perpetrata tutto l'anno da milioni di persone. Io veramente non so più che dire, ci stanno riportando in un medioevo, in una preistoria, con la cazzata, con le varie cazzate. Pensate soltanto alla diminuzione dell'utilizzo dell'auto, alle ZTL, alla loro idea di città da 15 minuti, le 40 città da 15 minuti. Pensate alla follia dell'auto elettrica, pensate alla follia che si è rivelata subito praticamente, dei cappotti termici, delle cose pericolosissime, delle cose inutili, delle cose nocive. Eppure si continua. Questa notizia che vi ho appena letto è gravissima perché ci sta dicendo, guardate, la vostra vita non conta nulla. La vostra vita vale meno dell'ambiente più preistorico che possa esistere. Quindi per salvare l'ambiente dovete morire voi. Se non avete letto tra le linee di questo articolo c'è scritto esattamente questo. Perché non dimentichiamoci, un esame in più può salvarti la vita. Un esame in più può mettere in risalto qualcosa di latente. Ed è proprio questo che si sta cercando in tutti i modi di scoraggiare. Pensate soltanto alle liste di attesa per gli esami. Siamo tornati veramente in una preistoria moderna pericolosissima per tutti. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.